Il nostro accangelo affezionato Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Gruppo E2SH Il nostro corso gratuito Ma tu con quel bit l'hai fatto il buco dell'ozona Ogni colpo di gas Il cannone nero che saliva nell'alto dei cieli Ci voleva l'attitivo, non è casuale Non voleva l'attitivo Come è stata insomma la tua ennesima Gambari mai così impattanata? Ma è sempre bella Complimento a chi era organizzata Sempre la gara di casa è bellissima Senti ma con tutta quella coppia Perché tu hai un motore TTI, iniettore pompa Tutta quella coppia No, parlo seriamente Cioè ogni ripartenza Non è stato fatto Tre marce Stesso che sei con la prima marcia Partila con la prima, con la seconda, con la terza Bene, c'è pure la tanta maestria E tanta esperienza Bravo a Cangelo di cuore Grazie